Da Beethoven a Morricone, sette gli appuntamenti che fino a marzo 2020 vedranno protagonisti, grandi artisti internazionali per un viaggio all'insegna delle emozioni. Torna infatti Arezzo Classica, la stagione concertistica voluta dal Comune di Arezzo assieme alla Fondazione Guido d'Arezzo e realizzata in collaborazione con Camu. Il sipario sulla seconda edizione si alzerà domenica 13 ottobre al Teatro Petrarca con lo spettacolo all'insegna delle contaminazioni artistiche granelli di musica. Vedrà la protagonista la camerata strumentale di Prato con una stand artist dal nome Ruben in arte Ghibli che ci mostrerà le quattro stagioni di Vivaldi eseguite dalla camerata di Prato, mi preme dire, solista e maestro concertatore Luigi Piovano che abbiamo sentito l'anno scorso direttore degli archi di Santa Cecilia, in questo caso anche concertatore di questo concerto e che appunto vedrà queste quattro stagioni di Vivaldi noti al grande pubblico in questa duplice veste. Si proseguirà poi con il Gemmaiani Project che proporrà da Vivaldi a Morricone a 432 Hz. Sarà poi il turno delle sonorità del tango con Alessandro IV Place Astor Piazzolla in programma il primo febbraio al Teatro Petrarca. Il 28 febbraio invece sempre al Teatro Petrarca protagonisti saranno Andrea Lucchesini e Giovanni Gnocchi con un programma dedicato a Beethoven. Giovanni Gnocchi è un violoncellista già affermato a livello europeo e non solo, docente al Mozarteum di Salisburgo, mentre Andrea Lucchesini è un pianista di fama mondiale che ovviamente non ha bisogno di nessuna presentazione. La stagione si chiuderà sempre nel segno di Beethoven con l'orchestra sinfonica abruzzese diretta dal maestro Didonato il 13 marzo. A questi appuntamenti si aggiungono poi due eventi gratuiti. Insomma, la grande musica che quest'anno diventa popolare è pronta a conquistare la città. I concerti gratuiti sono il regalo che la Fondazione insieme al Comune fa alla cittadinanza. Quello del primo di gennaio che è il concerto di Capodanno legato sostanzialmente al nome di Oida, all'orchestra instabile di Arezzo, quindi un'orchestra retina che suona per il primo dell'anno e legato anche all'inizio dell'anno metoveniano. L'altro è il pianista Vandevelde al teatro Pietro Aretino. Al di là della qualità dei concerti c'è un investimento sulla musica che l'amministrazione fa e che dedica in gran parte ai giovani. Tant'è vero che dedichiamo tutto il loggione, quindi il quarto ordine, ai ragazzi, ai liceali che vorranno venire a sentire musica. Poi quell'euro, visto che corrisponde anche al costo di un caffè, il caffè glielo offre il sindaco quella sera, quindi praticamente è gratuito. Però ci vuole l'impegno a voler venire a teatro a sentire musica. I biglietti sono, diciamo così, resi molto popolari. Abbiamo deciso di fare tre facce di fatto di bigliettazione. E appunto 15 euro per la platea, 10 euro per i primi tre ordini di parchi e l'ultimo, come ha detto il sindaco, gratuito per gli studenti.